Nel nostro giro abbiamo trovato anche un ex studente, Matteo, che cosa ci fai qui a scuola? Io sono qui tramite la ditta con cui lavoro, che è praticamente la SAI che si occupa di materiale da vigneto, ho regalato dei pali all'Istituto Tecnico Agrario per un progetto del professor Giannone che si occupa di un ampliamento del pollaio. Quindi rimanete legati in qualche modo a questo istituto, è stato importante questo percorso formativo, ti ha aiutato anche nel percorso poi professionale? Sì, per me è stato molto importante perché da qui parte tutto, nel senso dopo le superiori sono andato a fare enologia, dopo enologia ho cominciato a lavorare nel settore della viticoltura ed enologia e ho trovato questo lavoro e sono a fare il direttore commerciale in un'azienda che si occupa di materiale da vigneto. Una storia di successo, quindi consiglieresti questo percorso di studi a dei ragazzi che magari adesso sono incerti nella scuola da scegliere? Sì, io consiglierei di successo tra virgolette, però nel senso accontentiamoci e sì, comunque sì, è un consiglio che do a tutti, nel senso sulla scuola agraria per me è stato un gran trampolino di lancio.